Buonasera, benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura torniamo a occuparci della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, dove persero la vita 29 persone. A quasi 4 anni dalla tragedia, ora la vicenda giudiziaria potrebbe avere delle novità. Infatti un nuovo studio dei ricercatori dell'Università di Chieti formula una nuova ipotesi riguardo il sisma che ha provocato la valanga che ha distrutto l'hotel. Insorge ora il Comitato delle Vittime che parla di colpo basso e di spiegazioni che prefigurano una soluzione degli imputati nel processo. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. A meno di un mese dal quarto anniversario della tragedia di Rigopiano, un nuovo scenario potrebbe aprirsi a seguito di uno studio scientifico pubblicato sulla prestigiosa rivista Frontiers in Earth Science, affirma Tommaso Piacentini, Mogna Calista, Umberto Crescentini, Enrico Miccadei e Nicola Sciarra, docenti dell'Università degli Studi di Chieti. Secondo gli scienziati le tre forti scosse di terremoto, ben due oltre il quinto grado della scala Richter e motivo per cui gli ospiti volevano abbandonare il resort isolato dalla neve, causarono la valanga che alle ore 16 e 18 inghiottì l'hotel Rigopiano causando la morte di 29 persone. Lo studio è stato condotto attraverso un'analisi regionale multidisciplinare integrata, combinando l'analisi meteorologica e climatica regionale, l'analisi della sismicità, l'analisi della distribuzione delle valanghe e il confronto tra sismicità e valanghe nello spazio e nel tempo, prendendo ad esempio i casi aprile 2009 e gennaio 2017. Il terremoto, si legge nella pubblicazione, causa una iniziale frattura di taglio all'interno di una pressione strato debole. A causa di queste le forze agenti nell'astrone che comincia a scivolare si distribuiscono modellando una nuova configurazione. Ad impressionare, nelle 30 pagine pubblicate in lingua inglese, sono i numeri delle valanghe registrate prima e dopo la tragedia. Se nel sessantennio precedente si erano contate da 0 a 70 valanghe, il 2017 rappresentò un'annata anomala, quando si registrarono 76 valanghe, con un totale di 105 nei due giorni successivi e 115 alla fine dell'anno. A dare peso specifico alla ricerca, anche l'analisi fotogeologica che per la prima volta hanno documentato fratture e scarpate di origine cosismica che potrebbero contribuire a innescare la valanga, che probabilmente sarebbe stata liberata dalla parte centrale del pendio. Questo conferma il ruolo delle scosse sismiche nello sviluppo di queste specifiche valanghe, anche se con un innesco ritardato rispettivamente 135 o 32 minuti dei precedenti eventi sismici di magnitudo 5,1 e 4,3 per la valanga di Rigopiano. Le analisi di modellazione e stabilità 3D hanno fornito ulteriore supporto a come la scossa sismica sia stata responsabile dell'instabilità del cedimento e della deformazione della neve nella parte alta del versante del Montesiella e della valle di Rigopiano. Come detto inizialmente, questo studio con molta probabilità andrà a rimescolare le carte sul tavolo di un processo, ancora fermo nella fase preliminare, e che alla ripresa il 15 marzo prossimo potrebbe favorire molti dei 29 imputati che potrebbero chiedere al GUP una perizia sullo studio. Non si è fatto attendere il commento del Comitato delle Vittime di Rigopiano, i quali giudicano lo studio uscito in questi giorni l'ennesima spada di Damocle sulla vicenda. Questo studio, eseguito da geologi e sismologi che si sostituiscono ad un tribunale italiano e stabiliscono che la causa della valanga è attribuibile alle scosse sismiche, aleggiano in maniera inequivocabile quasi la soluzione degli imputati prima ancora delle celebrazioni del processo vero e proprio. Un colpo basso, ordito chissà per quali ragioni, continua il Comitato, ma del resto in questi quattro anni di colpi bassi ne abbiamo ricevuti in notevole misura e dopo ogni colpo ci siamo rialzati sempre più forti e con nuovi argomenti ed impulsi info-investigativi. I tre punti cardini dell'inchiesta sono e rimarranno sempre gli stessi, pulizia della strada e pieno neve fallimentare, ordinanze preventive di sgombro e sicurezza pubblica mai adottate, soccorsi all'ertà di ritardo. Apriamo ora la pagina Covid con il consueto bollettino fornito dall'assessorato regionale alla sanità. Quest'oggi in Abruzzo sono 47 nuovi casi, poco oltre il 3% dei test analizzati. Vediamo il servizio. Sono 47 nuovi casi di Covid in Abruzzo su 1.398 tamponi processati. Il tasso di positività supera il 3%, 311 sono invece i pazienti dichiarati guariti nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei deceduti sale a 1.185 con 9 nuovi casi, persone d'età compresa tra 61 e 91 anni, 1 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo. Del totale odierno, 8 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, ad oggi i positivi in Abruzzo sono 11.272, meno 273 rispetto a ieri. 10.850 sono residenti in provincia dell'Aquila, 6.964 in provincia di Chieti, 7.048 nel Pescarese, 9.283 nel Teramano. 280 provengono da fuori regione, mentre per 155 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. 451 pazienti, meno 6 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 38 in terapia intensiva, più 1 rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri. Mentre gli altri 10.783, meno 267 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. Sperando di vedere dopo il 6 gennaio l'Abruzzo in zona gialla, le organizzazioni di categoria dei commercianti si dicono soddisfatte per la decisione di anticipare i saldi al 4 gennaio, che inizialmente infatti erano previsti per il 7 gennaio. Paolo Renzetti. Da poche ore è ufficiale, i saldi nella nostra regione partiranno il 4 gennaio. Direttore, quello un po' che tutti volevano, soprattutto le organizzazioni di categoria. Sì, abbiamo chiesto con forza di spostare la data del 5, perché come sappiamo con l'ultimo decreto del governo, il 5 e il 6, saremo tutti quanti rossi, per cui non era il caso di partire come era già stato stabilito il giorno antecedente la Befana. Qualcuno preferiva magari partire direttamente il 7 gennaio in zona gialla, ma alla fine abbiamo trovato una mediazione partendo il giorno 4, anche se in zona arancione. Un Natale molto complicato, difficile per gli esercenti della nostra regione? È stato molto complicato, come ben sappiamo siamo l'unica regione che ha avuto ulteriori chiusura nel periodo prenatalizio e soprattutto il settore moda, abbigliamento, calzature hanno subito dei danni in più rispetto anche a quello che è successo nel resto d'Italia. Speriamo che la situazione a gennaio cominci a migliorare, sia dal punto di vista epidemiologico e di conseguenza anche rispetto alle vendite fisiche. Sappiamo che è difficile conciliare quelle che sono le esigenze per quanto riguarda la crisi da coronavirus con le esigenze degli esercenti, ma dal mio punto di vista si può trovare una giusta mediazione e fare shopping in sicurezza. I ristori annunciati e previsti sono arrivati? I ristori sono in ritardo, soprattutto quelli della regione Abruzzo, lo abbiamo sollecitato più volte. Dal nostro punto di vista si deve adottare una procedura straordinaria per accelerare l'erogazione dei fondi. è evidente che adottando le procedure ordinarie rischiano di arrivare un po' in ritardo rispetto a quelle che sono le esigenze. Diverse le iniziative portate avanti dal WWF Abruzzo nel corso del 2020, benché tutte le problematiche riguardo la pandemia ancora in corso. Questa mattina l'Associazione Ambientalista ha tirato le somme di quest'andata. Che 2020 è stato dal punto di vista ambientale anche nella nostra regione? Sicuramente è stato un anno difficile per tutti, per tutta una serie di problematiche che abbiamo vissuto legate alla pandemia. D'altra parte però sono continuate le attività normali di tutela dell'ambiente che il WWF porta avanti. E allora citiamo due casi per tutti. Da un lato le bellissime immagini dell'orsa con i quattro cuccioli che ci dà la speranza anche di quella che è un po' una rinascita sia della natura sia della nostra stessa vita. E dall'altro elemento negativo questa proposta di taglio di 8 mila ettari del parco regionale Sirentevelino, l'unico parco regionale presente nella nostra regione, guarda caso proprio un territorio fondamentale per la tutela dell'orso. Queste sono le contraddizioni che noi viviamo e che dobbiamo assolutamente superare. Quella di oggi è stata anche l'occasione per ricordare Fabrizia Arduini, una vostra attivista scomparsa di recente. Sì, il 2020 è stato anche l'anno che ci ha portato via Fabrizia. Sentiamo tutti un grande vuoto per lei, ma continuiamo a lavorare anche per il testimone che ci ha lasciato. E di questi giorni la vittoria sull'impianto GPL a Ortona, che non verrà più realizzato sul paese che lei tanto amava, lo dobbiamo a lei. E pensiamo quindi, vogliamo dedicare a Fabrizia la ripartenza, il nuovo entusiasmo con il quale vogliamo difendere la natura. La politica è mancato, il numero legale in consiglio comunale per la discussione del debito fuori bilancio, da riconoscere a seguito del contenzioso per il municipio di Avezzano. Nella Marsica, dalla Lega si attacca la maggioranza, che sostiene il sindaco di Pangrazio. Per Tiziano Genovesi, della Lega, per l'appunto, non si stanno facendo gli interessi della città. Il servizio è di Gioia Chiostri. Quasi due milioni di euro pendono sulla testa del comune di Avezzano. Questo è l'importo della somma che l'ente comunale, oggi amministrato dalla squadra di Di Pangrazio, dovrà sborsare entro dieci giorni per la controversia IRIM, legata alla costruzione del nuovo municipio nella zona nord della città. Una cattedrale nel deserto ad oggi. Per il commissario Passerotti, che ha seguito una parte dell'annosa vicenda quando era commissario prefettizio proprio ad Avezzano, occorre adesso una massima prudenza. Siamo arrivati a depositare l'atto di precetto, quindi IRIM sta andando avanti con quello che è il credito che vanda nei confronti del comune di Avezzano. Il comune di Avezzano continua ad allungare i tempi, pagando inspiegabilmente ogni giorno degli interessi di mora, che sono degli interessi di mora abbastanza cospicui. Questo sindaco non ha una visione di città, ha messo su una cozzaglia di liste, una cozzaglia di liste con delle persone che sono le più disparate possibili e che oggi non hanno a cuore la città di Avezzano e lo stanno dimostrando col primo vero grande problema. Nell'ultimo consiglio comunale il punto all'ordine del giorno, connesso a doppio filo con il lodo del collegio arbitrale e quindi con quello che è a tutti gli effetti un debito fuori bilancio, non è stato discusso per mancanza del numero legale. Ci sono delle situazioni, ci si deve sedere a tavolo con IRIM per cercare di mediare la posizione, senza dover necessariamente chiedere chissà quali condizioni a IRIM. Ritornare in possesso immediatamente della struttura, occorrono ancora 4 milioni, 4 milioni e mezzo per poterla terminare. Quindi qui si vede o di procedere con fondi comunali, che evidentemente ad oggi bisogna trovarli, oppure si può ricorrere a un project financing. La struttura è già costata 6 milioni di euro per la predisposizione, il progetto, il fatto anche di edificarla in parte, poi si va verso l'approvazione del bilancio e quindi sicuramente questo debito peserà. Dobbiamo votare in consiglio un debito fuori bilancio, quindi è un debito fuori bilancio di oltre 1 milione e 8 di euro, è un debito fuori bilancio importante, ci sono dei fondi a Nord del Crona, che per onestà intellettuali, ci sono dei fondi accantonati, pare a un milione e cento, che derivano dalla vendita della farmacia comunale, ma ci sono comunque dei soldi ancora da dover sborsare. È stato presentato a Teramo il percorso di istruzione e formazione professionale triennale, gratuito per il conseguimento della qualifica di muratore ed ile, affidato dalla Regione Abruzzo ad Eventi Italia, in collaborazione con l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori. Vediamo. È un progetto particolare che dà una grossa opportunità ai ragazzi che sono sotto i 25 anni di età, perché questo percorso formativo che dura 3 anni permette loro, oltre all'assolvimento di un obbligo formativo, ma permette dal secondo anno l'inserimento nelle aziende attraverso la stipula di un contratto di apprendistato di primo livello, per cui il ragazzo già dal secondo anno avrà un contratto di apprendistato con le aziende che aderiscono al progetto. È una grandissima opportunità per i ragazzi lavoratori, perché normalmente i percorsi triennali prevedono soltanto degli obbligo formativi, ma in questo caso il ragazzo ha l'opportunità di affacciarsi nel mondo del lavoro. E alla fine del triennio l'azienda potrebbe anche optare per l'assunzione con il ragazzo, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Bisogna un po' uscire fuori dall'idea del muratore che sta lì, che mette i mattoni. Il muratore deve conoscere i progetti, i software, i computer, anche perché la tecnologia è andata molto in avanti e allora abbiamo bisogno sempre di più di avere persone altamente qualificate. A giorni, fra qualche mese dovrebbero partire i famosi lavori con gli incentivi dell'eco bonus che tutti conoscono e avremo bisogno di tanta manodopra, di tanta manodopra specializzata. Perciò io inviterei i giovani a entrare in questo mondo. Noi abbiamo anche, i nostri contratti sono tutti a tempo indeterminato, per il 95%, non abbiamo contratti a termine oppure a tempo part time. Perciò abbiamo la retribuzione che è molto più alta dei metallomeccanici. Io, ripeto, faccio questo appello ai giovani di entrare in questo mondo. Wine Channel, il network abruzzese dedicato tutto all'enologia, ha redatto una rivista per promuovere il vino italiano, in particolare quello abruzzese, anche in Cina. Oggi presentiamo questa bella iniziativa da voi curata, che riguarda un magazine tutto scritto in cinese sul vino italiano e dedicato proprio al mercato orientale, in particolare proprio quello della Cina. Com'è nata questa iniziativa? Sì, Wine Channel è una società che si occupa da qualche anno proprio di comunicazione ed export del vino italiano in Cina, in questo mercato che è uno tra i più interessanti oggi proprio per il vino, e che, soprattutto quest'anno e per l'anno prossimo, si prevede essere un mercato estremamente interessante proprio per l'Italia del vino. Abbiamo pensato, creando questo magazine, a come riuscire a raggiungere i nostri potenziali clienti, buy, importatori cinesi, con un nostro vento differente, quindi, diciamo, non riuscendo a raggiungerli in questo periodo fisicamente, attraverso le fiere o la modalità tradizionali di contatto con i clienti. Allora abbiamo pensato di creare un magazine, che è un magazine stampato e cartaceo, che viene distribuito gratuitamente in Cina a un panel di importatori, distributori, buyer cinesi in diverse province della Cina. La cosa bella e importante di questo progetto è che, oltre a raccontare il vino italiano, quindi ad avere una funzione di informazione e formazione sul nostro paese, sulle nostre produzioni, sulle nostre ricchezze, anche territoriali. Ad esempio, il primo numero l'abbiamo dedicato all'Abruzzo, proprio per appartenenza, descrivendo non solo il Montepulciano, le denominazioni, quindi un viaggio attraverso la nostra storicità, ma anche collocando l'Abruzzo in Italia, quindi descrivendolo anche proprio come regione, con le unicità che ha, anche perché la grande forza dell'Italia è proprio la grande differenza e varietà di vitigni che vanno comunicati, vanno raccontati. Quindi non esistono solamente i grandi vini blasonati, le grandi firme del vino, che sono le più conosciute, ma il nostro scopo è quello di andare a raccontare e a comunicare tutte le nostre varietà e tutte le nostre produzioni vinicole italiane. La cosa che abbiamo voluto fare è stata creare anche un collegamento con il web, cioè dare la possibilità ai consumatori cinesi di poter contattare direttamente sia le aziende, sia eventualmente acquistare i prodotti tramite e-commerce o tramite un rappresentante cinese in Cina attraverso quello che è lo strumento più utilizzato, che è il QR code, QR code che noi ancora non utilizziamo tanto, anche se in questo periodo abbiamo iniziato anche noi ad usarlo, per loro è fondamentale perché collega la carta stampata con il web. Quindi per loro avere ad esempio una selezione di vini italiani sul magazine, poter andare ad approfondire poi notizie sulla cantina, poter contattare direttamente un rappresentante cinese oppure poter acquistare direttamente il vino su una piattaforma e-commerce è sicuramente per loro un modo per raggiungerci, per conoscerci meglio e per approfondire proprio la conoscenza dell'Italia e dei sei vini. Noi ci auguriamo che con questo progetto riusciremo a sostenere, ad aiutare insomma ancora di più le cantine italiane ad entrare in uno dei mercati più interessanti, più importanti per l'export del vino. E ora lo sport, il calcio di Serie B, domani alle 15, ultima gara del 2020 per il Pescara che ospiterà il Cosenza per quello che è uno scontro diretto della parte bassa della classifica. Resta in attacco il dubbio Setter che stamani ha sostenuto regolarmente la rifinitura mentre tornano dal primo minuto Balzano e in Zita tra i convocati torna anche Busellato ma non c'è ancora Masciangelo e il Cosenza è il peggior attacco del campionato ma ha conquistato in trasferta la maggior parte dei suoi punti. Andrea Costantini Quello di Chiavari è stato un bruttissimo incidente di percorso o il segnale di un nuovo periodo o no? La risposta a questa domanda la daranno le due partite pre-sosta entrambe sono sconti diretti nei quali ripetere l'errore principale di due giorni fa sarebbe peccato mortale scendere in campo cioè senza intensità e furore agonistico per usare le due espressioni pronunciate nel post-gara dal tecnico Roberto Breda che si è messo sul banco degli imputati per non aver saputo motivare a dovere la squadra pur avendo parlato chiaramente di gara spartiacque. Così domani ore 15 col Cosenza è lecito attendersi una squadra che abbia almeno il medesimo spirito visto nelle precedenti cinque partite della gestione Breda. Il tecnico Biancazzurro poi si porterà dietro il principale interrogativo di questo periodo la presenza da primo minuto di Damir Setter per questo Pescara il centroavanti colombiano è imprescindibile le tre vittorie in campionato sono arrivate con lui in campo dal primo minuto e proprio in quelle tre partite Setter ha realizzato le sue quattro reti stagionali numeri inoppugnabili ieri il giocatore ha lavorato in via differenziata e neanche la rifinitura di questa mattina la Dea di Cocornacchia ha affugato dubbi sulla sua presenza da titolare per il resto vanno verso il ritorno dal primo minuto Balzano, Zita e Memushai il primo formerà il trio di difesa con Bocchetti e l'ex Scognemiglio il giovane laterale belga agirà da quinto di sinistra Memushai farà parte del trio di interni con Omeonga e Valdifiori Bellanova a destra in avanti con Galano ci sarà Maestro in caso Setter non ce la faccia a giocare dal primo minuto Out Jarosinski per i postumi del violento scontro di gioco di Chiavari il polacco attende l'esito degli esami strumentali all'Adriatico arriva un Cosenza che è partito con entusiasmo sull'onda lunga della clamorosa salvezza dello scorso luglio ma ora non se la sta passando molto meglio del Delfino rispetto al quale ha due punti in più una sola vittoria nelle ultime sette partite ed un mercato di riparazione dal quale il tecnico Occhiuzzi attende rinforzi per un attacco che è il peggiore della cadetteria 11 reti segnate a fronte di una difesa granitica 12 con gli incassati seconda solo a quella del Cittadella 11 che però ha due gare in meno la squadra silana però ha conquistato le sue due vittorie e 9 dei suoi 14 punti lontano dal San Vito Marulla dopo il doppio pareggio casalingo con Venezia e Pisa il tecnico Occhiuzzi detta la linea è normale adesso per il momento dobbiamo lavorare bene con gli elementi che abbiamo e preparare al meglio questa gara perché troveremo una squadra più arrabbiata di noi è il momento che dobbiamo far male quando si recupera la palla e si riparte perché ce l'abbiamo nelle corde non dobbiamo sbagliare l'ultimo passaggio la decisione è giusta non bisogna sbagliare lo stesso Occhiuzzi medida di lasciare il 3-4-1-2 e rispolverare un 3-4-3 nel quale l'ex Baez e Carretta agiranno ai lati del giovane italo-dominicano Sueva in mediana agiranno Bittante e un altro ex Corsi sulle due fasce interni Sciaudone e Petrucci in difesa rientra Tiritiello con ingrosso e uno tra legittimo, favorito e Idda sempre tra gli ex non ci sarà il difensore Schiavi mentre partirà dalla panchina l'attaccante Borrelli che ha collezionato due presenze e appena 72 minuti finora il giocatore di proprietà del Pescara non ha trovato spazio e potrebbe andare via a gennaio destinazione Perugia sempre in prestito nei 27 precedenti a Pescara il bilancio è di 13 successi biancazzurri 12 pareggi e due affermazioni silane l'ultima nel lontano 67 arbitro del match sarà Marco Serra di Torino con cui il Pescara ha sei direzioni una vittoria 2-1 con il Livorno nel 2016 tre pareggi e due sconfitte l'ultima gara con Serra e Frosinone Pescara 2-0 del dicembre 2019 con Serra il Cosenza ha tre direzioni due pareggi, una sconfitta e nessuna vittoria Serie D, chiusura d'anno col successo nel derby del Vomano per il notarisco che quest'anno vuole tentare di nuovo la scalata in Lega Pro che la scorsa stagione non è riuscita a causa dello stop dei tornei proprio per il Covid facendo così sfumare la promozione per un pelo l'obiettivo è quello di ritentare come ammette anche il Presidente Rosso Blu Salvatore Di Giovanni ascoltiamolo Presidente Di Giovanni si chiude l'anno in bellezza dopo l'amarezza di quel campionato sfumato prima del lockdown per fortuna oggi avete vinto per voi e quindi si va in vacanza con il sorriso sulle labbra Sicuramente sì, è stata una bella partita non una bella partita, è stata una partita sofferta, con molto agonismo con due squadri forti l'ho detto anche ai tuoi colleghi devo fare i complimenti al Castelnuovo perché sinceramente mi ha impressionato come squadra, come grinta come voglia di lottare e di vincere poi noi abbiamo fatto due Eurogol quindi credo che la vittoria ci possa stare logicamente sono contento per la società per i ragazzi, sì perché venivamo poi da una sconfitta di Campobasso quindi una debla che è stata giù però abbiamo reagito bene ho visto una squadra compatta quindi ho fatto i complimenti ai ragazzi per quanto riguarda il 2020 sinceramente è stato un anno tragico non solo da un punto di vista sportivo però da un punto di vista salutare quindi quello che è successo e che sta succedendo ancora con questo benedetto Covid che non sparisce è stato un anno particolare noi avevamo vinto il campionato l'abbiamo buttato sinceramente perché avevamo 11 punti di vantaggio il girone d'andata poi il girone di ritorno non so che cosa sia successo è chiaro che poi si è interrotto questo campionato il nostro rammarico principale è che se veniva stoppato una settimana prima così come è successo dal centro nord dalle miglie in su che l'avevano fermato una settimana prima della nostra noi avremmo vinto il campionato perché eravamo primi quindi l'ultima partita che abbiamo giocato l'abbiamo perso il Matelica l'ha vinto e quindi ci ha scavalcato e riproverate quest'anno quest'anno ci vogliamo riprovare ci vogliamo riprovare quest'anno abbiamo allestito effettivamente un'ottima squadra perché vogliamo essere protagonisti poi l'ho detto anche l'ho detto anche ai ragazzi e a tutti quanti noi vogliamo cercare di vincere vogliamo abbiamo fatto una squadra appunto importante ho detto sempre che dobbiamo stare lì attaccati alle prime posizioni poi alla fine tireremo le somme se abbiamo vinto siamo stati bravi noi se ha vinto qualcun altro significa che qualcun altro è stato più bravo di noi La prima storica promozione in Serie D è poi un inizio di campionato strabiliante i numeri del Castelnuovo parlano di un 2020 da ricordare e allora ai nostri microfoni il direttore generale neroverde Emilio Capardi ha tirato le somme di questa stagione dispiace per i ragazzi perché poi alla fine ci è capitata anche la palla giusta per pareggiare con Sbarbati sicuramente lui pensava di essere in fuorigioco e ci ha dato un po' molle perché se no poteva fare di tutto poteva prendere lo specchio della porta poteva stopparla tirare però nel calcio c'è tutto però complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una buona partita non come domenica ma ripetere quella partita domenica dovevano essere marziani si chiude questo come abbiamo detto questo miniciclo di partite soddisfazione comunque in casa Castelnuovo per quello che si è riusciti a fare al primo anno in Sarri e D si ma proprio l'anno 2020 è stato positivissimo sia per quanto riguarda la vittoria del campionato di eccellenza sia cercare di fare un buon campionato di questo quindi sicuramente è stato positivo complimenti ai ragazzi alla società al territorio e sicuramente gli daremo anche ancora delle buone soddisfazioni alla ripresa ci sarà un'altra sfida difficilissima col Cinzia al Balonga si chiude questo mini tour di partite difficilissime che vi ha visto impegnati sì al Balonga è un'ottima squadra tant'è che è imbattuta in casa ancora quindi conosco qualche giocatore è un'ottima squadra ha fatto ottimi risultati e sicuramente ci sarà da lottare ma non ci tireremo indietro è nella nostra indole perché voi fuori casa siete veramente una macchina da punti sì noi fuori casa cerchiamo sempre di trovare e cercare la vittoria così faremo anche il 6 di gennaio speriamo che la Befana ci dia qualche buon dono il telegiornale termina qui tutti quanti i servizi che avete visto sono sul nostro canale youtube e sul sito tv6.it il TG6 tornerà alle 23 con l'edizione della notte grazie per averci seguito una buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti